Grazie a tutti. L'occhio di tutto ciò che è inerente all'occhio e ci eravamo lasciati con slide simili a questa, questa o un'altra simile a questa, adesso dobbiamo vedere bene il processo della visione, quindi vi ho già detto tante 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 cose, quindi mi raccomando seguite nel modo più assoluto la precedente lezione perché questa è una continuazione e se no cadete e non ci capite niente. Allora avete visto già dall'anatomia macroscopica e microscopica, conoscete l'occhio, la struttura dell'occhio, sapete come è fatta la retina, gli strati della retina, in ogni caso ve li ho ripresi un po' nella precedente lezione. Adesso andiamo a vedere un po' meglio i fotorecettori con i bastoncelli che ricordatevi non sono neuroni. Queste immagini le avevate visto, avevo richiamato in voi alcuni congetti che dovete sapere già, quindi gli strati della retina. Quindi mi raccomando, allora tornando a noi, per quanto riguarda questo strato qui, lo strato nucleare esterno, vedete che a livello dello strato nucleare esterno, e troviamo ovviamente i nostri fotorecettori, queste cellule particolari dove avviene il processo di trasduzione del segnale che poi verrà convertito in un segnale elettrico sostanzialmente. Adesso ci andremo pian piano, vi farò capire il percorso. Quindi i coni e i bastoncelli sono deputati alla fototrasduzione, quindi arriva la luce da questa parte. Adesso dovete capire un concetto molto 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 importante. Abbiamo detto che i coni hanno alta acuità visiva, abbiamo parlato dell'acuità visiva nella precedente lezione, quindi andatevela a vedere, a riguardare, lo dovreste sapere, vi ho già detto. I bastoncelli, invece, hanno bassa acuità visiva. Questo significa che se siamo in una condizione di scarsa illuminazione, state ben attenti, quindi stiamo guardando un oggetto e arriva nei nostri occhi, arriva ovviamente una luce scarsa, bassa, in condizioni di scarsa illuminazione, i bastoncelli, a differenza dei coni, hanno una bassa acuità visiva, ma hanno una sensibilità alla luce maggiore. Ecco perché sono loro ad attivarsi quando l'illuminazione è scarsa e quindi si attiva la visione monocromatica notturna, in bianco e nero, praticamente. Sono molto più sensibili alla luce, però per contro hanno più sensibilità alla luce, ma hanno inferiore acuità visiva rispetto ai coni. E vi ho già detto, nella precedente lezione, che l'acuità visiva, adesso in due parole ve lo dico, è la capacità di percepire essenzialmente i dettagli di un oggetto quando lo guardiamo. Per capire quanto detto in precedenza, dovete comprendere il fenomeno della convergenza. Questi sono due schemi molto 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 didattici, in nero questi segmenti rappresentano i bastoncelli, in giallo questi segmenti rappresentano i coni, ognuno ha un cono, qui i numeretti per ogni numeretto consideratelo come se fosse un fotone. Quindi sono stimoli luminosi, uno stimolo luminoso, uno stimolo luminoso, uno stimolo luminoso, uno stimolo luminoso, uno stimolo luminoso e via dicendo. Idem qui, uno stimolo luminoso, uno stimolo luminoso, uno stimolo luminoso, uno stimolo luminoso. in blu questi pallottoloni più grandi sono invece le cellule gagliari questi segmenti rossi rappresentano il percorso che poi fa l'informazione verso le cellule gagliari per poi in fin dei conti dalle cellule gagliari nasce il potenziale d'azione che vi ho indicato con queste frecce qui diretto al sistema nervoso centrale adesso state bene attenti ovviamente come sapete i coni e i bastongelli non è che contraggono sinapsi direttamente con le cellule gagliari quindi quello è un schema molto didattico sapete con che cosa contraggono sinapsi però le sinapsi che contraggono i bastongelli avvengono in modo tale che ci sia in fin dei conti per quanto riguarda i bastongelli una maggiore convergenza verso le cellule gagliari quindi essenzialmente ecco questo rispetto ai coni dove la convergenza è minore quindi essenzialmente questo significa che se la convergenza nei coni è inferiore allora ogni cono detto in breve così in modo molto semplice trasmetterà l'informazione ad una cellula gagliare per farvi comprendere cos'è la convergenza in ultima analisi ad una cellula gagliare invece dato che i bastongelli abbiamo detto che hanno alta convergenza significa che più bastongelli andranno a trasmettere l'informazione ad una singola cellula gagliare ovviamente in ultima analisi perché come vedete le sinapsi come vi ho già detto non sono dirette però questo è il concetto quindi sto cercando di farvelo capire un attimino un po' anche se non in modo rigorosamente scientifico ma da un punto di vista concettuale perché essenzialmente il concetto è quello e qui vedete essenzialmente quello che vi volevo dire lo capite meglio no? guardate abbiamo qua più bastongelli 5 bastongelli 1, 2, 3, 4 e 5 quindi state ben attenti prendiamo un nostro reggettore ecco a livello di un disco siamo qui e ingrandiamo questa regione qua piuttosto che questa piuttosto che questa è uguale ingrandiamo questa regione qui a questo livello quindi a livello del segmento esterno che si occupa della fototrasluzione quindi ingrandiamo una struttura del genere un disco ecco vedete questo è quel disco che vedevate prima essenzialmente quello che vi facevo vedere prima con laser è tutto più ingrandito e questa è ovviamente parte della nostra cellula ecco guardate qui questa è un'immagine un disegnino più piccolo ma identico praticamente nella logica a quello che avevate visto un secondo fa quindi vedete questi dischi ecco prendiamone uno ingrandiamolo ecco e siamo dentro la cellula questo è il nostro disco questa qua è il doppio strato fosfolipidico è membrana cellulare eh anche qui il disco è vedete avvolto da membrana cellulare quindi anche qui abbiamo doppio strato fosfolipidico nei nostri bastongelli a questo livello vedete qui la rhodopsina ecco la rhodopsina è proprio il nostro recettore molecolare quindi il nostro bastongello come anche il cono e le nostre cellule fotorecettrici però ecco prendendo il bastongello in quanto cellula fotorecettrice ecco a livello dei dischi qui vedete è immersa nel abbiamo una proteina transmembrana vedete che attraversa la membrana che è formata da sette domini transmembrana ad alfa elica e tale proteina prende il nome di rhodopsina questo è il nostro recettore molecolare sensibile alla luce poi vedremo meglio per adesso vorrei parlarvi un attimino della rhodopsina state bene attenti non vi posso scrivere tutto scrivete tutto ciò quello che vi dico la la rhodopsina è costituita da una componente proteica che prende il nome di opsina è una proteina appunto l'opsina l'opsina è questa componente proteica che è costituita da sette domini transmembrana quindi attraversa la membrana sette volte ma non è costituita soltanto da questa componente proteica che è che si chiama opsina opsina mi raccomando la rhodopsina è costituita da una componente proteica che prende il nome di opsina è costituita quindi da 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 formata da sette domini transmembrana e il settimo dominio transmembrana è legato al retinale che sapete essere derivato dalla vitamina A ecco perché ovviamente è importante la vitamina A per la visione soprattutto la visione notturna allora quindi il retinale io ve l'ho spiegato andatevi a riprendere le vitamine e così il retinale sapete che cos'è quindi il retinale essenzialmente una forma della nostra vitamina A ed è molto importante per la visione quindi perché vedete va a formare la rhodopsina quindi vedete vi ho messo la molecola di retinale la molecola di retinale questa qui è legata all'opsina sotto questa forma sotto forma di 11 cis retinale quindi nella forma cis mi raccomando chimica organica studiatela non bene ma benissimo anzi più che benissimo lo dovete sapere chimica organica e biochimica quindi nella sua forma cis l'11 cis retinale può essere convertito nella sua forma trans 11 trans retinale poi vedremo come avvengono queste conversioni e perché l'11 cis retinale poi si converte in 11 trans retinale e poi è viceversa perché avvengono questi per il momento sappiate che appunto la rhodopsina è legata all'11 cis retinale che può essere nella sua forma cis e però può cambiare conformazione nella sua forma trans quindi da 11 cis retinale sopra diventa 11 trans retinale sotto poi vedremo nel dettaglio perché per il momento voi dovete accumulare queste informazioni capirle ovviamente e poi ricostruire il tutto come un puzzle quando vi andrò a spiegare il fenomeno il processo di trasduzione del segnale che avviene a questi livelli nei coni vi dicevo il recettore molecolare che trovate in vintei conti non è che va rimotto dalla rhodopsina abbiamo l'opsina anche qui legata alla molecola di retinale sotto forma di 11 cis retinale quindi questa è la conformazione nella conformazione 11 cis retinale però dovete comprendere un aspetto importante a parte la differente sensibilità che vi ho già spiegato prima i coni ovviamente percepiscono la luce di urna come questo ve l'ho detto in mille modi diversi parlando della convergenza e chi più ne ha più ne mette e ovviamente percepiamo ciò che vediamo se tutto funziona bene non abbiamo particolari patologie percepiamo lo spettro del visibile quindi percepiamo i colori questo perché che è Grazie.